Eccoci qui con Alberto Biolzi, responsabile di direzione Wealth Management di Cassa Lombarda. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo in una situazione che inizialmente sembrava eccezionale, oggi sta diventando la nuova normalità. Tassi estremamente bassi, a questo punto come occorre investire, come muoversi? È una domanda che si stanno ponendo tutti gli investitori, la risposta non è per nulla facile. Il tema è che questo contesto ci accompagnerà probabilmente per tanto tempo e diventa effettivamente difficile individuare quali sono le soluzioni migliori per allocare il proprio denaro. Sapendo che la mancata allocazione dello stesso, cioè la detenzione della liquidità, ha comunque un costo per gli investitori, rappresentato dalla perdita di potere d'acquisto in un contesto di inflazione che è ancorché bassa, comunque è normalmente presente. E quindi la ricerca delle modalità migliori per investire questo risparmio è effettivamente molto sfidante. È particolarmente impegnativa questa ricerca per i clienti che hanno un profilo di rischio più basso. Gli investitori che hanno una maggiore avversione al rischio tipicamente erano abituati ad investire in obbligazioni, nel reddito fisso. E oggi è proprio nell'asset class obbligazionaria che si individuano le maggiori difficoltà ad individuare dei ritorni attesi interessanti. Sostanzialmente il 26% di tutto l'obbligazionario mondiale investment grade presenta oggi dei ritorni negativi. E se pensiamo all'indice Global Aggregate ci rendiamo conto che il rendimento medio nominale delle obbligazioni presenti nell'indice è di poco superiore all'1%. Se teniamo conto dei costi di transazione e degli oneri fiscali è evidente che dal reddito fisso si può detrarre veramente poco ritorno. Da qui parte la ricerca di un rendimento atteso più interessante e le soluzioni di fatto rispondono a un termine, a una parola, alla diversificazione. È necessario utilizzare e investire anche in altri attivi che non siano solamente investimenti monetari e obbligazionari e questo è necessario anche per chi come dicevo all'inizio ha una propensione a rischio molto bassa. Quindi guardare anche investimenti azionari, guardare anche investimenti obbligazionari di paesi emergenti o ad alto rendimento, guardare anche alle materie prime ma come? Con grande attenzione al rischio. Evidentemente non basta combinare in maniera opportuna le diverse asset class ma è necessario anche gestire in maniera dinamica quelli che sono i pesi da assegnare alle diverse categorie di investimento. È necessario seguire e monitorare il mercato nel continuo, è necessario individuare fasi in cui può essere più opportuno aumentare i rischi o ridurre i rischi. Quindi la gestione degli attivi in un portafoglio diversificato diventa elemento fondamentale. Sostanzialmente non è più sufficiente fare strategie di carry, cioè di detenzione degli attivi nel portafoglio. Come dicevo prima, se pensiamo alle obbligazioni, faccio molta fatica oggi a individuare degli strumenti che mi consentono di avere un ritorno atteso positivo a scadenza. Alla luce di quello che ci sta dicendo, quindi non è il momento del fai da te nell'investimento? Assolutamente non è il momento del fai da te, anzi è molto difficile per un investitore che non ha evidentemente tutte le informazioni a disposizione, fare questo picking, cioè questa scelta degli strumenti in cui investire. È difficile per un professionista, figuriamoci, per chi ha meno strumenti formativi a disposizione. Serve molta attenzione e molta cura, bisogna essere anche disposti a sostenere un costo che sappiamo che impatta sul rendimento, ma può essere giustificato proprio da questa difficoltà, dalla ricerca professionale della migliore allocazione del proprio risparmio. Immagino serva anche avere un orizzonte di investimento quantomeno di medio periodo per poter dominare i cicli di mercato che sono inevitabili, alti e bassi. Assolutamente, questo è un altro tema rilevante, gli orizzonti temporali devono per forza di cose necessariamente allungarsi, tipicamente erano associati a orizzonti temporali molto brevi gli investimenti monetari e un obbligazionario breve termine, ma sul monetario e sull'obbligazionario breve termine non c'è discussione, non ci sono ritorni attesi oggi. Grazie mille allora Alberto Biolzi. Grazie a voi.